Quanto mie ci dispiace. Tanto, tantissimo. Ripeto, a me, me pare nastrunzata. E ascolto, a volume altissimo Beace on the Beace. Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko. Così Gianni Simioli, conduttore radiofonico, ha scritto suoi social per dare notizia della scomparsa di Gino Cogliandro, comico del trio 3-3. Il cabarettista napoletano aveva 72 anni. Il successo, arrivò negli anni Ottanta, periodo in cui Gino Cogliandro, Mirko Setaro e Edoardo Romano divennero una presenza fissa del Varietà Drive-In. E poi le partecipazioni ai più diversi programmi televisivi, da italiani a cabaret per una notte nel 1988, da trisitors del 1989 a il TG, delle vacanze del 1991. Per non dimenticare le apparizioni su Buona Domenica e Retromars. Di qualche anno, dopo. Comicità e non solo in tv, il trio aveva partecipato anche alla produzione del film Italia Fast Food e alla canzone Oscar Raphone di Pino Daniele. Negli anni Novanta il gruppo comico si è sciolto ed ognuno ha continuato la carriera per conto suo. Ora in tanti li ricordano insieme e soprattutto non dimenticano le loro battute, i loro sketch e il loro modo di fare comicità. Gino Cogliandro dopo i 3-3 si era dedicato al cinema e tra i suoi lavori più recenti si conta Vecchie Canaglie, film di quest'anno in cui ha interpretato il ruolo di Vivalfi. Nell'ultimo periodo non si era fermato con le sitcom napoletane. E ora, a piangerlo con la famiglia e soprattutto la sua napa.